Il tempo passa quando gli allievi superano i maestri e qui abbiamo un esempio limpido, il nostro Stefano Pisini lo ha avuto come portiere a Ceciliano da allenatore molti molti lustri fa e ora lo troviamo praticamente come allenatore di questa squadra femminile dell'Arezzo Calcio, una squadra che si sta facendo onore veramente dopo un bellissimo campionato dello scorso anno, quest'anno si sta ripetendo, ma noi partiamo dalle giovanissime, dalla prima squadra e anche agli altri istruttori, a Rachele e l'altro giovanile che poi presenterà il nostro mister, coach Stefano Pisini, allora Stefano una bella soddisfazione, è una sorpresa anche per me dopo averti avuto, lo ripeto, molto tempo fa come allenatore e tu come portiere, hai assimilato bene gli insegnamenti del mister e vedo che ti seguono con tanta attenzione questi giovanissimi. Eh sì, ricordo dei vecchi tempi come si dice, eh sì, questo sì, i ricordi sono sempre belli, sempre buoni, mi hai insegnato delle cose importanti, sto cercando di creare un bel gruppo, quest'anno sta aumentando a vista d'occhio tramite la nostra pubblicità, è divertentissimo, lo dicono loro, ve lo faranno vedere, intanto voglio presentare i miei due collaboratori. Rachele Rubecchi e Alessio Genici. Senza di loro sarebbe molto difficile allenare tutti questi bambini perché da solo sarebbe complicato. In effetti le squadre che compongono questo nuovo sodalizio che si allena qui nei locali, nelle strutture del Roberto Lorentini, del Orange e Don Bosco, quante squadre avete? Noi ne abbiamo quattro, la loro squadra è la squadra delle Pulcine che stanno partecipando al campionato del 2007, poi abbiamo la squadra delle giovanissime, un'altra squadra degli minores e la prima squadra che è la Serie C, che merita nel campionato regionale della Toscana. Allora Rachele è una bella soddisfazione insegnare la prima esperienza oppure... Sì no, io insieme a Stefano è già il secondo anno che alleniamo insieme, precedentemente avevo aiutato un'altra scuola di calcio femminile, quindi ora è un po' che alleno insomma, mi piace, è una bella soddisfazione, poi loro sono veramente un bel gruppo da allenare, diverte veramente tanto. E quindi uno sport, quello calcistico, che si addirrebbe più al maschile, però sta crescendo a vista d'occhio anche qui nel femminile, quindi vuol dire che c'è e strutture e istruttori veramente importanti. La nostra speranza è quella, che cresca anche il mondo del femminile perché ce n'è bisogno e c'è una bella esperienza, un bel gruppo ed è giusto che abbiano la loro visibilità. E quindi sì, sta crescendo anche il calcio femminile e siamo contenti di questo nostro progetto. Alessio è l'istruttore dei portieri. Un compito arduo e difficile perché il portiere è responsabile del 50% dei risultati. Eh sì, diciamo che è il ruolo forse fondamentale, il più importante all'interno della squadra, quello che si assume più rischi e quindi bisogna lavorare dal punto mentale più che anche dal punto tecnico e fisico. Adesso che sia il primo anno di esperienza da allenatore e quindi tanta emozione perché chiaramente con questi giovani, mentre un giocatore già fatto è già facile e semplice insegnare la tecnica, qui bisogna insegnare non soltanto tecnica ma anche comportamentale, educazionale, quindi è compito arduo, anche se la presenza della Ciperugia è importante per voi perché avete delle riunioni settimanali per insegnarvi, per cercare di insieme di assimilare le nozioni che la squadra maggiore impartisce. Sì, sì, questo è vero, noi bisogna cercare prima di tutto da dargli un'educazione, quella giusta, dei valori appropriati per giocare a calcio in una normale vita comune comunque. Poi, niente, bisogna imparare tutte le nozioni basi di tecnica, chiaramente per me, essendo il primo anno, poteva essere un pochino più facile allenare già portieri con una base, diciamo, di partenza, però comunque così è anche meglio, così posso dare quello che più io so e portarli avanti. Grazie Alessio, grazie Rebecca e grazie Rachele, scusate, grazie Rachele e grazie a Stefano che ha avuto l'onore e il piacere di allenarlo da ragazzi, ma vediamo a loro che sono i protagonisti della giornata, i giovani, le giovani allieve, vediamo, parliamo, la prima delle quali è? Miriana. Miriana? Amato. Da quant'è che giochi a calcio? Quasi due anni. Due anni, perché hai scelto questa disciplina sportiva? Perché quando, tipo, cioè, giocavo con mio fratello, poi è iniziato a piacermi questo sport e l'ho praticato. Giochi in attacco o in difesa? Attacco. Studiare? Difesa. Difesa. Studiare studi bene? Sì. Ti piace più studiare o giocare? Giocare. Bravissima, seconda? Aurelia Vargogni. Quanti anni hai? Otto. A scuola come va? Bene. E' contento il babbo o la mamma? Sì. Che tu giochi a calcio? Sì. Che è più contento, il babbo o la mamma? La mamma. Preferisci studiare o giocare al pallone? Giocare al pallone. Giocare al pallone. Vediamo la prossima. Eleonora. Rossi. E quanti anni hai? Nove. A scuola? Bene. Bene? I genitori sono contenti? Sì. Preferisci studiare o giocare? Giocare. E da grande chi vuoi diventare? Giocatrice. Una giocatrice. Oppure una professione diversa, parrucchiera, direttrice. Allora, la prossima. Melissa Lisi. E tu quanti anni hai? Nove. A scuola come va? Bene. Chi è che ti ha istruito per venire qua a calcio? La mamma. La mamma. E la mamma giocava al pallone oppure no? No. Papà giocava al pallone? No. A scuola come vai? Bene. Sono contenti i genitori? Sì. Tu sei contenta? Sì. Delle strutture sei contenta? Sì. Degli allenatori? Sì. Bravissima. Vediamo quest'altra. Nome? Amelia. Quanti anni hai? Sette. E hai scelto il calcio perché? Perché mi piace farlo. Vale. E preferisci giocare attacco o in difesa? Attacco. A scuola vai bene? Bravissima. Vediamo. Allora, io mi chiamo Ciro Amato. Quanti anni hai? Dodici. Amato, c'è la sorella? Sì, è lei che è sempre Miriam Amato. È più brava lei o più brava te? Che ruolo vuoi giocare tu? Beh, io giocherei in attacco, gioco negli esordienti più al topo. Insomma, io vengo qui per dare una mano agli allenatori. Per dare chiaramente consistenza. Sì. Bravissima. E insomma, sono contento di stare qui. A scuola come va? Bene. Bene, bene. E in questo gruppo femminile c'è qualche nuova che sa giocare veramente al calcio? Che si vede dal tocco? Ciao. Scena diversa. Scena diversa. Aurelia. Vediamo. Aurelia. Ha già parlato. Agnese Giulianini. Quanti anni hai? Otto. Ti piace giocare al calcio? Perché ti piace? Hai preferito il calcio? Perché è un gioco di squadra e ti piace stare ai tuoi compagni di scuola? Sì. I tuoi genitori sono contenti? Sì. Sì. E da grande che vuoi diventare? Una giocatrice? Sì. In che ruolo? Difensore. Difensore. Bravissimo. La prossima? Letizia. Letizia. Quanti anni hai? Nove. A scuola? Va bene? Sì. La mamma è contenta? Sì. Papà? Igualmente? Sì. Vengono a vedervi agli allenamenti? A volte. A volte partite? C'è la sera quando è tornata a casa qualche rimprovero da parte dei genitori? No. No, nessuno. Da grande chi vuoi diventare? Bo. Una giocatrice. Vediamo la prossima. Viola Pesci. Viola, quanti anni hai? Otto. A scuola va bene? Sì. I genitori sono contenti? Da grande vuoi diventare? No. Nessuno? No, vuoi sfondare nello sport oppure nella professione? Professione. Professione. Bravissime, le hai chiare? Alessia. Alessia, quanti anni hai? Dieci. In che ruolo giochi? O vorresti giocare? Io vorrei giocare in attacco, ma mi mettono di salito in tutti i posti. In difesa, si vede, sei più predisposta a difendere che non attaccare, però ti puoi portare in avanti, se chiaramente il tuo fisico te lo consente, di proiettarti sulle france e poi crossare il pallone al centro. Bene, allora, hanno parlato tutti, noi ringraziamo, ripeto, i nostri giovani, sono sulle loro mani praticamente il futuro di questi ragazzi e con l'augurio che possa uscire veramente qualche campione, come è uscito un campione, Pissini ha percorso tragitti importanti del calcio. In bocca al lupo ragazzi, buon divertimento, il campo è a vostra completa disposizione, divertitevi e cercate di portare sempre rispetto all'avversario e il perpre rimanga sempre impresso nella vostra mente e nei vostri piedi, particolarmente adoprateli sul pallone e non sugli avversari. Buona serata.